Si è tenuta oggi nella sala Ettore Fagioli di Fondazione Renna la conferenza stampa di presentazione di Carmen, quarto titolo della nuova edizione del Festival Lirico, che debutterà sabato 6 luglio nella veste ideata da Ugo Deana. Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione, rivela i grandi nomi che calcheranno il prestigioso palco dell'Anfiteatro Romano. Dopo tutti questi veri successi che abbiamo avuto di pubblico, di critica e anche commerciali, perché questo è molto importante, siamo appunto a presentare la quarta opera in cartellone, che è la Carmen di Ugo Deana, un allestimento molto diverso da quelli diciamo più tradizionali. Quest'anno ci sarà un cast meraviglioso, anche nella Carmen, a partire dal maestro Daniel Oren, e molti debutti da Carmen, che sarà Xenia Dudnikov, una cantante eccezionale, che insomma canta in tutti i più grandi teatri del mondo, il debutto di Marty Mune, poi il grande ritorno di Ruth Iniesta, che l'anno scorso è stata una delle rivelazioni e la nostra stagione farà il ruolo di Michele, e tutta una serie di giovani incredibilmente bravi, anche questi scelti apposta per Carmen. E speriamo di proseguire in questa linea meravigliosa di come è iniziato questo festival quest'anno.